Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Un'altra doccia fredda in arrivo per i 338 lavoratori ex TCT di Taranto nel testo del decreto 1000 proroghe, infatti la proroga alla Taranto Port Workers Agency avrà validità di soli tre mesi e non di cinque come detto inizialmente, un risultato decisamente deludente rispetto alla richiesta iniziale di 24 mesi. Questa mattina intanto le segreterie territoriali di Taranto, Will Transporti, FIT CISL e FIT CGL hanno inviato due richieste, la prima indirizzata ai parlamentari ionici ai quali richiedono un incontro urgente per analizzare e mettere in campo congiuntamente le azioni necessarie a tutelare questi lavoratori. La seconda invece richiede un incontro urgente alla task force regionale per attivare nell'immediato le procedure necessarie alla riqualificazione degli ex TCT. È assolutamente ovvio, ha dichiarato il segretario generale di Will Transporti Taranto Carmelo Sasso, che i tre mesi non saranno sufficienti a riqualificare e ricollocare i 338 lavoratori. Il decreto 1000 proroghe dovrà seguire il suo iter parlamentare, ma già inizialmente avevamo dichiarato che questa proroga non potrà risolvere il problema. Abbiamo intenzione di continuare il nostro programma iniziale e chiedere al governo in collaborazione con i nostri parlamentari che i tempi dello strumento normativo siano allineati a quelli di insediamento delle aziende del porto. È necessario anche un impegno concreto da parte della regione Puglia per la riqualificazione. Il port infine deve comunicarci definitivamente le sue intenzioni e contribuire a ridurre i lavoratori da ricollocare, assumendoli dal bacino della Taranto Port Workers Agency. Il nostro progetto, conclude Sasso, negli anni è stato supportato dalle forze politiche che si sono alternate all'esecutivo nazionale. Ora siamo alla fase finale di questo percorso e confidiamo che il governo Meloni, superate le sabbie mobili della finanziaria, sappia trovare la decina di milioni di euro che servono a porre fine a questa problematica occupazionale. Umiliata, insultata e picchiata dal proprio figlio è la storia denunciata da una donna diginosa ai carabinieri del posto. Il culmine è stato raggiunto quando il 26enne, dopo una lite, le ha lanciato addosso delle bottiglie e le ha chiuso il braccio in una porta finestra, provocandole delle lesioni, che hanno reso necessario l'intervento del 118 e il successivo trasporto presso l'ospedale di Castellaneta. Allertati dalla centrale operativa, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione del centro diginosa e hanno arrestato il ragazzo che si trova ora presso la casa circondariale di Taranto, in attesa di sentenza definitiva. Negli ultimi giorni, i finanzieri del comando provinciale di Taranto, nell'ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno individuato presso vari esercizi commerciali dislocati tra il capoluogo ionico e la provincia, 13 lavoratori in nero e 19 irregolari. Le violazioni riscontrate hanno interessato varie tipologie di attività commerciali situate a Taranto, Martina Franca, San Giorgio Ionico, Manduria e Torricella. Sono stati posti a verbale sette datori di lavoro per l'utilizzo di manodopera in nero irregolare. In tre casi poi è stato richiesto al competente ispettorato territoriale del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione delle attività delle imprese. Cinque persone denunciate e una licenza revocata e questo il bilancio dei controlli straordinari eseguiti sul territorio tarantino l'ultimo dell'anno dalla Polizia di Stato. Sarebbero quattro le persone identificate e denunciate perché responsabili di furti in grandi magazzini. Il primo, un tarantino di 32 anni con precedenti specifici di polizia, si sarebbe reso autore del furto avvenuto in un negozio di abbigliamento in pieno centro tarantino, rubando ben 24 capi per un valore di più di 300 euro. Ad incastrarlo però le immagini del sistema di videosorveglianza nonché un distoso tatuaggio sul lato destro del collo. Stessa sorte per altri due uomini e una donna tutti i tarantini responsabili di alcuni furti in un supermercato, anche in questo caso incastrati dalle immagini di videosorveglianza del negozio, mentre nascondevano gli alimenti in alcune grandi borse a tracolla. Scoperto poi un furto di energie in una pizzeria del borgo situata in Corso Umberto, i tecnici dell'Enel hanno rilevato la manomissione del quadro elettrico situato sulla pubblica via dal quale partiva un cavo di alimentazione attaccato direttamente alla rete principale per un danno stimato all'azienda erogatrice ammontanti a circa 15.000 euro. Revocata infine la licenza dell'attività ad un centro di scommesse che avrebbe continuato ad esercitare la sua attività pur non essendo in possesso dei requisiti necessari. La revoca giunge dopo un precedente provvedimento di sospensione che era stato notificato dai poliziotti nell'ottobre dello scorso anno. Un capodanno decisamente all'insegna del rincaro è quello che emerge dal bilancio tracciato dalla Col di Retti Puglia per il cenone di fine anno infatti i pugliesi hanno speso circa 160 milioni di euro, il 12% in più rispetto allo scorso anno. A pesare sulla spesa per la tavola di fine anno soprattutto i rincari degli alimenti tradizionali delle nostre tavolate. Si passa infatti dal 22% in più sul costo delle cime di rape, al 18% dei calamari, dall'11% delle lenticchie a oltre il 100% dell'uva. Non manca anche chi ha dovuto rinunciare al pesce a causa dei costi elevati e per rispettare la tradizione ha voluto portare in tavola cibi più poveri. Infine l'85% dei pugliesi ha preferito festeggiare nelle case proprio di parenti e amici, solo il 15% ha salutato il nuovo anno tra ristoranti e agriturismi. Un 2023 da incorniciare quello della Giovani Crios tra prima squadra, settore agonistico, scuola calcio e calcio femminile con la crescita delle pink. Ce ne parla il presidente Giuseppe Lafratta. È stato un anno ricco di soddisfazioni dalla prima squadra fino alle categorie più piccole. Con la prima squadra abbiamo raggiunto una salvezza storica dove la prima categoria è un campionato nuovo per la Giovani Crios. L'abbiamo svolto prevalentemente con ragazzi sotto età, a media di 17-18 anni, con l'inserimento di qualche senior. Raggiunta una salvezza storica dove effettivamente i ragazzi hanno dato tanto, hanno dato tutto. Avevamo fiducia in loro fin dal primo momento, dove ci sono stati comunque momenti di difficoltà. Grazie un po' al contributo sia della società che dei mister. Siamo riusciti a venirne a capo, venirne fuori e raggiunto risultati importanti. Anche Under-17, Under-15, seconda fase, fase regionale, le pink. Insomma, questo 2023 ha certificato la qualità del metodo Crios. Sì, fase regionale, sia lo scorso anno l'abbiamo raggiunto, sfiorato anche l'impresa con le qualificazioni alle fasi finali, uscite solo le quarti di finale con la categoria Under-15. Ci siamo riqualificati quest'anno con entrambe le categorie, ci apprestiamo a iniziare il campionato e la seconda fase regionale a breve. Con le pink abbiamo inaugurato quello che è il nostro nuovo campo a nuovo, il nostro nuovo centro sportivo, fiore all'occhiello della giovane Crios. Ed è stata tanta la soddisfazione vedere le pink sul campo in un evento organizzato dalla federazione dove erano presenti tante società della regione, Puglia e Basilicata e anche esponenti importanti della federazione. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.